Tutto in 60 secondi, il vantaggio del calcio Giulio Nova con il rigore trasformato dal freddo Poliandri. Al pareggio immediato del San Gregorio, anche rabbioso nello sviluppo, con la stoccata ravvicinata di Costi. L'anticipo del primo turno nel Girona di promozione è quasi tutto condensato nelle due marcature. Due lampi a metà ripresa che accendono una sfida tirata, sostanzialmente equilibrata nella quale emergono le caratteristiche di due formazioni dalla Genesi completamente diversa. Alla fine il pari del Fadini non scontenta nessuno e consente alle due formazioni di iniziare la stagione muovendo la classifica. A voler pesare ogni dettaglio, gli ospiti si mostrano formazione tignosa, molto ben organizzata, mentre i giallorossi, alla prima assoluta nel torneo di promozione, crescono la distanza dopo un avvio forse un po' troppo contratto, cercando sempre di far leva sulla velocità nelle verticalizzazioni. In fase offensiva, come detto, la gara si accende a sprazzi. Il San Gregorio ha subito la palla del vantaggio dopo appena cinque minuti. Gianni mette in moto Di Paolo, bravo nell'accelerazione e molto meno nella conclusione quasi a botta sicura che si perde alta. Gli spunti del numero dieci ospite creano qualche grattacappo alla squadra di Lalloni. Al ventiduesimo Ranalli chiude in angolo lo spunto del solito Di Paolo. La grande occasione per il vantaggio capita anche ai giallorossi al trentunesimo. Poi gli andri vola via nello spazio, destro con scavetto sull'uscita di Mastracci, ma la sfera è larga. Nella ripresa i ritmi della gara salgono. Il San Gregorio prova sempre a fare la partita, mentre i giuliesi cercano soluzioni in velocità, con Lalloni che progressivamente muta l'assetto offensivo della formazione, con l'innesto di La Liscia a punta centrale. Al ventesimo la sfida potrebbe cambiare, Di Paolo in fase offensiva viene forse strattonato. L'assistente segnala un fuorigioco, il San Gregorio protesta, mentre i locali non perdono tempo, battono subito la punizione e prendono di infilata gli avversari. La Liscia, fuorigioco lanciato in verticale, viene affrontato e steso dal portiere. Protestano gli aquilani, non certo per il rigore concesso, ma per lo sviluppo dell'azione. Poliantri dal dischetto spiazza Mastracci. La gioia giallorossa è effimera, visto che il pari ospite è fulminio. Di Paolo, con rabbia, apre la difesa avversaria, appoggia per Alfonsetti e Costi è puntuale nell'appuntamento sul secondo palo. La sfida resta equilibrata, con frequenti rovesciamenti di fronte. Anche se prima della fine le migliori occasioni per spezzare l'equilibrio capitano agli ospiti. Poco dopo la mezz'ora, nell'area giuliesi si accende una mischia furibonda. Il tocco di anni carambola sul palo a Merletti battuto. Mentre poco dopo il reattivo portiere di casa dice di no al pallone indirizzato verso il primo palo dopo una progressione del solito Di Paolo e tocco fortuito del difensore di Felice.